Un lavoro che mette in evidenza le numerose contraddizioni del progetto definitivo della ciclovia turistica del Metauro, che la Regione Marche ha pubblicato nel luglio 2021, cancellando un precedente progetto già approvato e finanziato da realizzare ai margini della ferrovia dismessa Fano Urbino. E' questo l'obiettivo del documento presentato oggi dal Comitato ciclovia del Metauro, che denuncia un'opera non sicura e nemmeno lineare ed economica. Vogliamo tenere alta l'attenzione sul tema, ha dichiarato Renzo Rovinelli, perché entro il 31 dicembre 2022, ha detto, devono essere espletate tutte le pratiche burocratiche e amministrative per non perdere i finanziamenti a fondo perduto previsti dall'Unione Europea per la realizzazione dell'opera a fianco dei binari. Il problema è che le soluzioni che si stanno prospettando sono soluzioni che contrastano con le normative, nello stesso tempo non è funzionale né attrattiva, e questa è una cosa che potrete esaminare, e con tutta franchezza noi riteniamo che questa situazione che si è creata con lo studio di fattibilità, dato RFI, stia bloccando un po' tutto il meccanismo. Nel senso che questo studio che doveva essere presentato entro un anno fa, è stato spostato, rispostato, ancora ad oggi, al 31 di gennaio, non è stato ancora presentato, non se ne vede traccia, nessuno sa nulla, e crediamo che questo elemento stia bloccando anche qualsiasi altra soluzione futura. Senza voler guastare i sogni di chi vuole ripristinare i treni, di chi vuole spostare le ferrovie, ci interessa esaurire il campo del possibile, che in questo caso è l'utilizzo di 4 milioni e mezzo per dare una viabilità ai ciclisti che sia sicura e attrattiva dal punto di vista turistico. Secondo il Comitato, il progetto regionale prevede l'utilizzo di percorsi preesistenti o da creare ex novo, che renderebbero la ciclovia pericolosa e disagevole. Ad entrare nei dettagli è Enrico Tosi, che illustra le notevoli differenze con l'opera suggerita dal Comitato e tracciata in verde. non c'è neanche il rispetto delle norme previste dalla legge numero 2 del 2018, che codifica le ciclovie, dice come devono essere fatte. In sostanza devono essere a doppio senso di marcia, sicure e agevoli per tutti. C'è da dire che in gran parte del percorso è inevitabile la condivisione con il traffico a motore. Quindi immaginiamo come possano dei turisti sentirsi al sicuro in un percorso in condivisione con gli automobili, i trattori, i motorini e cose del genere. Inoltre, ha proseguito Tosi, questo percorso dovrebbe essere economico, ma non lo è. Infatti sono previsti sei nuovi ponti ciclopedonali, pur essendoci quelli inutilizzati per l'ex ferrovia, un muro di cemento armato di 340 metri in zona Fossombrone e l'allargamento della sede stradale per 350 metri. Tutti i lavori, ha spiegato Tosi, che non sarebbero necessari se, come sostiene da sempre il comitato, si utilizzasse il percorso abbandonato dell'ex ferrovia senza mettere in discussione l'eventuale riutilizzo del sedime. Perché RFI ha blindato questa parte centrale del percorso per un eventuale ritorno di un treno turistico. Quindi che cosa chiedete alla Regione e ai vari sindaci? No, noi auspichiamo che siano i sindaci a prendere iniziativa. Loro conoscono bene quali sono le esigenze dei territori. Tra l'altro quelli nuovi si sono già espressi in maniera molto netta su questa vicenda. Quindi noi speriamo che siano loro, ripeto, a prendere iniziativa per avviare finalmente il recupero di questo bene collettivo abbandonato da 35 anni che può dare uno sviluppo formidabile all'intera vallata del Metauro.